Ciao a tutti, sono Ernestina Dalla Cortelluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo eccellenze dolomitiche. In questa puntata parleremo di tradizioni antiche e feste popolari, ma per tutti voi cari amici ascoltatori che ci seguite qui su Radio ADM Voce delle Dolomiti, abbiamo alla fine una sorpresa musicale speciale per voi. Come in tanti sanno il 25 aprile si celebra in tutta l'Italia la Festa della Liberazione, ma c'è un'altra ricorrenza con profonde radici nella storia del Veneto, specialmente importante per Venezia e, perché no, anche per le Dolomiti, the Mountains of Venice. Allora per noi ci sarà una doppia ricorrenza. Il 25 aprile si celebra il Santo Patrono della Regione Veneto, San Marco. San Marco è anche il Santo Patrono della città di Venezia, che è la capitale della Regione Veneto. È una città antica, parte della storia dell'umanità e patrimonio UNESCO. San Marco, raffigurato come leone alato, è presente anche nello stema del Veneto, nella sua bandiera e nella bandiera della città di Venezia. Ogni anno diventa una delle mete più ambite per le città italiane e del mondo. Venezia è anche una rinomata città d'arte in cui si celebrano ogni anno diverse festività di antichissima origine, come la festa di San Marco. San Marco Evangelista viene commemorato ogni 25 aprile, data della morte del Santo Patrono della città. È da secoli che questa ricorrenza viene celebrata con una processione verso la Basilica, a cui partecipavano principalmente il Doge, assieme alle massime autorità cittadine, seguiti da migliaia di fedeli al Santo. Verso l'anno 1000, San Marco Evangelista diventa il Santo Patrono di Venezia e fu scelto come titolare della Basilica. Ma la storia del legame di San Marco con queste terre venete inizia prima, quasi un millennio prima. Racconta un'antica leggenda che in un viaggio di San Marco da Quileia a Roma le parve in sogno mentre sostava nella già importante e strategica laguna veneta un angelo, in forma di leone alato, annunciando che in quelle terre avrebbe trovato un giorno il suo riposo finale e anche la venerazione del suo corpo. Questa leggenda che viene tramandata secolo dopo secolo di padre in figlio fino ai nostri giorni racconta che questo leone alato che si presenta a San Marco aveva sotto la zampa un libro con scritto all'interno. Secondo la tradizione San Marco continua la sua evangelizzazione in Egitto per finalmente essere ucciso in modo violento ad Alessandria d'Egitto, in una data che viene considerata come precisa dagli studiosi il 25 aprile dell'anno 68 d.C. Resterà lì per quasi otto secoli e sarà solo fino all'anno 828 che arriverà a Venezia il corpo di San Marco. I veneziani credevano un loro compito dover far tornare il santo e decidono di riportare i resti di San Marco a Venezia. Non era un'impresa facile, i resti del santo erano in possesso degli arabi e c'era un divieto al commercio con loro. Ad ogni modo nell'anno 827 una spedizione parte verso Alessandria con l'obiettivo di impadronirsi delle reliquie di San Marco all'Evangelista. Furono comandate da due storici mercanti veneziani, Bono da Malamoco e Rustico da Torcello. Nell'828 le reliquie di San Marco arrivarono finalmente a Venezia, provenienti da Alessandria d'Egitto. Una volta giunte nella città lagunare le reliquie di San Marco vennero deposte in una stanza del palazzo ducale per più di due secoli. Nella seconda metà del undicesimo secolo venne costruita la basilica di San Marco e il santo riposa lì da quel momento in poi. Ancora oggi si trovano nella basilica di San Marco i suoi resti e vengono custoditi insieme ad altri tante reliquie. San Marco divenne allora il santo protettore di Venezia da quando venne portato lì e poi divenne anche il protettore di tutte le terre venete. Il simbolo di San Marco e del suo Vangelo è il leone che quale re degli animali rappresenta la potenza di Gesù Cristo. Da lì che il leone di San Marco divenne un simbolo di Venezia e del Veneto nonché della bandiera veneta. Questo famoso leone alato conosciuto anche con il nome di leone di San Marco o leone marciano è stato da sempre simbolo di forza, maestosità e coraggio. Queste qualità vengono associate a San Marco per come lui enfatizzava nel suo Vangelo il potere di Dio. La storia di Venezia cambierà dopo il possesso delle reliquie del santo. Divenne ancora più internazionale giacché la sua basilica custodisce allora uno dei quattro evangelisti del cristianessimo assomigliandosi in qualche modo alla basilica di San Pietro in Vaticano la quale custodisce i resti di San Pietro. Il popolo veneziano sentendosi sicuro e protetto dalla presenza dei resti di San Marco sviluppò una forte devozione attorno al suo simbolo più rinomato il leone lato. Quest'ultimo che rappresentava la potenza dell'unità delle città dell'aspetto politico e religioso divenne è finalmente parte della loro identità. Alcuni studiosi indicano che le ali rappresentano l'elevazione spirituale, il libro sotto la zampa del leone la sapienza e la spada la giustizia. Allora nei secoli il leone di San Marco si rafferma come un'icona di Venezia e viene anche raffigurato in tre forme diverse. Il leone andante, ossia quando è possibile vedere per intero il corpo del leone di profilo. L'animale è appoggiato su tre zampe mentre l'anteriore destra è poggiata sul libro. Questa è la tipica raffigurazione presentata nelle bandiere e nelle grandi statue dove vi era spazio in abbondanza per rappresentarlo. Poi c'è il leone rampante che vuol dire che lo vediamo di profilo e rito sulle zampe posteriori e con le zampe anteriori regge il libro e la spada. Per ultimo c'è una terza posizione dove troviamo al leone accovacciato e posizionato frontalmente con le ali spiegate a vantaglio e seduto. In veneziano si dice in molecca o moecca. È una versione molto usata su spazi ridotti per la semplicità e la compattezza grafica. Il leone è stato sempre simbolo di forza, potere e fierezza. A poco fa si è riconfermato nell'opera di un artista veneto. Parliamo del leone alato realizzato in legno più grande del mondo. Dopo la tragica e sconvolgente tempesta Baia il 29 ottobre 2018 l'artista Marco Martalar decide di creare e costruire un simbolo di rinascita, un'opera d'arte in ricordo di tutti gli alberi che sono stati abbattuti. Quella notte del 29 ottobre i boschi sono stati distrutti e tutti i sentieri sono diventati praticamente inagibili. Così l'artista che giustamente porta il nome di Marco come il leone decide di andare in bosco e con tutti i pezzi di legno e rami abbandonati che riesce a trovare inizia a creare e dare vita a una scultura unica. L'imponente opera dell'artista diventa famosa a livello internazionale e anche per la sua location mozzafiato nell'alto pieno di Asiago in provincia di Vicenza. Poco dopo la sua creazione il leone vola a Venezia per una mostra dove migliaia di persone hanno potuto ammirarlo. Ma un'altra cosa che possono ammirare i milioni di turisti che visitano ogni anno la città di Venezia sono i tanti altri leoni di San Marco in ogni forma e materiale che possono trovare dappertutto non solo nella facciata principale della basilica che porta il nome del santo. La basilica è un altro simbolo famosissimo di Venezia e mette indiscutibile di viaggio. Porta il nome di Basilica Cattedrale Patriarcale di San Marco e si costruisce per ospitare i resti del santo patrono. In quei tempi le reliquie dei santi rappresentavano un potente aggregatore sociale ed economico attirando gli interessi di pellegrini e mercanti. La basilica di San Marco rappresenta il massimo monumento della città, tempio di vita civile, testimonianza della grandezza di Venezia e della sua fede religiosa. Per circa mille anni ha svolto la funzione di cappella ducale ma la basilica di San Marco è stata, lungo la storia, luogo di incontro e di preghiera per i veneziani anche in momenti molto dolorosi. I mercanti e i marinai hanno trovato a San Marco un punto di riferimento, già che viaggiando per terra e per mare l'hanno arricchita con doni preziosi, con marmi e con vari tesori d'arte che rimangono fino ad oggi. Questi tesori donati per onorare il santo patrono sono all'interno della basilica, la quale misura 28 metri di larghezza e raggiunge i 21 in altezza nelle arcate. Quando si pensa alla basilica di San Marco sono i suoi mosaici e i loro sfondi dorati quello che ci viene in mente. I mosaici rivestono per oltre 8000 metri quadrati le pareti della basilica e le cupole. La sua concezione architettonica è essenzialmente bizantina e il suo elemento integratore è naturalmente il mosaico. Nei mosaici si raffigurano storie tratte dalla Bibbia, figure allegoriche, vicende della vita di Cristo, della Vergine, di San Marco e di altri santi. La bellezza suggestiva e di grande intensità della basilica di San Marco la fanno un posto unico al mondo. La basilica si affaccia alla rinomata Piazza San Marco che rappresenta ancora oggi il cuore pulsante di Venezia. Nota anche come il salotto più elegante del mondo circondata da meravigliose opere architettoniche è il luogo di ritrovo preferito sin dai tempi della Serenissima. Un simbolo famoso in tutto il mondo di Piazza San Marco è il suo alto campanile. Domina la piazza costituendosi come un elemento molto rappresentativo. Con i suoi quasi 100 metri di altezza conta anche con la statua dell'Arcangelo Gabriele posta sulla cuspide. Con i suoi quasi 100 metri di altezza conta anche con la statua dell'Arcangelo Gabriele posta sulla cuspide. Ma questo campanile ducale che possiamo ammirare oggi non è quello originale. Nei primi anni del 1900 fu distrutto da un crollo per poi essere ricostruito esattamente com'era. A Piazza San Marco locali e turisti si affascinano con l'imponente Palazzo Ducale e il panorama della laguna completa questa meravigliosa scenografia veneziana la quale viene immortalata in numerosissimi dipinti e opere d'arte lungo la storia dell'umanità. La Piazza San Marco è però lo scenario di due fessi importanti. La prima è il suggestivo misterioso e famoso Carnevale veneziano. Nei giorni di Carnevale la città intera e principalmente Piazza San Marco si vestono con lo sfarso e l'uso dei costumi del tradizionale Carnevale. Questo evento di lunga tradizione è unico al mondo. Si svolge ogni anno riempiendo la piazza. Milaia di turisti decidono di partecipare al Carnevale di Venezia a tratti dal fascino e il mistero che questo Carnevale rappresenta. Più recentemente nasce una manifestazione popolare che ha a Piazza San Marco come cornice profetta. Si tratta di una festa con profonde radici nella storia di Venezia, la festa del boccolo. Questa tradizione centenaria di Venezia si celebra nel giorno dedicato a San Marco, ossia il 25 aprile. In questa occasione ogni innamorato regala alla propria amata un boccolo di rosa rossa o in Veneto un boccolo di rosa. Questa usanza deriva da un'antica leggenda. Si ricorda la storia tragica del soldato Tancredi il quale ferito mortalmente invia alla sua amata una rossa col suo sangue come impegno del suo amore. L'agenda racconta che Maria era la figlia del doge, il quale non accettava l'origine umile del soldato. Per dimostrare il suo amore, Tancredi parte per la guerra e muore in combattere, ma prima riesce a inviare una rossa bagnata col suo sangue alla sua amata. Maria muore dopo ricevere questa rossa e allora i veneziani prendono questo boccolo come simbolo d'amore. In onore di questa festa il 25 aprile del 2014 Piazza San Marco è stata ospite di una performance artistica che radunò migliaia di partecipanti e tanti curiosi. I collaboratori del progetto dell'artista veneziana Elena Taglia Pietra, che l'aveva denominato una rossa per Venezia, hanno formato un enorme disegno di un boccolo di rosa rossa fotografato dalla cuspide del campanile. Un panorama colorito e rappresentativo della festa del boccolo. Allora vediamo quanto importante sia San Marco per Venezia e tutte le terre venete. San Marco, la sua storia, il leone alato, la basilica, tutti sono parte della loro vita e identità, storia e cultura. Santo patrono, protettore, è quello che in qualche modo dà inizio alla Venezia come si la conosce nei nostri giorni. Il 25 aprile è una giornata di festi importanti in Veneto e in tutta Italia, festa della liberazione, festa di San Marco e del boccolo. Queste ricorrenze sono tradizioni con profonde radici storiche e che rappresentano parte dell'essenza di un popolo. Prima di salutarvi vogliamo inviare un augurio di buono nomastico a tutti quelli che portano il nome Marco e le sue varianti, specialmente al nostro direttore Marco Crepas. Anche vogliamo regalare a tutti i Veneti che portano nel cuore il Veneto una canzone tipica della tradizione, la biondina in gondoleta. Ascolteremo una versione per chitarra interpretata da mio fratello Innazio Dallacorteluccio. Sentiamoli insieme. Ciao amici di Bellonese nel mondo, io sono Innazio Dallacorteluccio, dalla famiglia bellonese dell'Argentina e in questa occasione vi farò ascoltare questo arrangiamento per chitarra di una canzone tradizionale veneziana chiamata La Biondina in gondoleta. Innazio Dallacorteluccio. Innazio Dallacorteluccio. Innazio Dallacorteluccio. Innazio Dallacorteluccio. Pozz 112. Grazie per ascoltare. Grazie mille Inazio per il tuo prezioso contributo. Cari amici ascoltatori, spero vi sia piaciuto tanto come me. Poi noi dalla redazione del programma Ernestina dalla fine del mondo e anche della famiglia belunese dell'Argentina vogliamo augurare a tutti voi una buona festa di San Marco e del Boccolo per tutti i belunesi nel mondo. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Arrivederci amici e come dice il nostro moto, decine lontani mai soli. Ringraziamo Inazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.